E bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui tornati con l'appuntamento domenicale e finalmente siamo a fare un video dopo un giorno, quindi senza assenza di video. Quindi prima di iniziare il video è da tutti che mi rompevano del clan di scrivere salitate youtube, quindi scriviamo salitate youtube, yotbe, qualcosa del genere. Dopo faremo vedere anche i saluti perché sennò rompono, bella a tutti, wewewe, tutte cavolate vari, web, web raga. Adesso questo video è intitolato per l'appunto come fare palate e palate di Elisir Nero, quindi intanto qua scorrono tutti i saluti che mi vogliono tutti, bella bella, bella tu, sorella, tutto quanto. E come potete vedere dai replay intanto c'è a youtube, c'è a tutti, bella ancora, sono sempre gli stessi ma continuano. Come potete vedere dai attacchi ho fatto 4.000 di nero, 4.050 di nero, 2.100 di nero, 2.800 di nero, 1.000 che è una cosa normalissima, 2.500, 4.300, 3.900 e altri attacchi veramente devastanti. Ciao youtube, ma sono sempre gli stessi perché loro sdroghiggiano in una maniera assurda, bella, beciao raga, sono sempre gli stessi, sono dei coglioni. Allora adesso andremo a fare bella facco, basto, vi aspetta. Andiamo a fare un attacchino in live così da andare a fare un bel po' di Elisir Nero. I bug sono sempre presenti nel mio account perché se il villaggio di facco non ha qualche bug noi non siamo contenti. intanto nei commenti dovete commentare con quello che volete perché i commenti stanno scarseggiando e per l'appunto io voglio rendervi partecipi di qualsiasi cosa succeda sul nostro canale. Quindi molto probabilmente settimana prossima arriverà lo street magic. Quindi spolliciate per volerlo oppure no. Andando io il primo episodio ve lo porterò per forza perché ho investito veramente qualche soldino per prendere tutti i giochi da fare in giro con la gente, con il dislessico, il pacco. Si sta prendendo il sopravvento, intanto qui non troviamo nulla da attaccare con tanto Elisir Nero però questo qui c'ha un po' di Elisir, però noi siamo pieni quindi ce ne sbatte assolutamente il cazzo. Purtroppo non posso ancora tagliare i video, modificarli, farli tutti fighi, posso soltanto mettere la musichina sotto. Quindi è tutto in live senza tagli e nient'altro. E quindi nei commenti, come ho detto già prima, dovete commentare con la serie che volete. Se volete lo street magic, intanto ne abbiamo trovato da attaccare questo stronzo. Lo street magic e dovete spolliciare per supportare queste serie nuove che arriveranno sul canale. Quindi incominciamo col mettere i golem, non li voglio mettere lì sotto, ma li mettiamo uno qua, uno qua e uno qua. Spaccamuro che vanno al centro, maghi dietro, perché questa qui è la solita tattica della gowipe, ma che per l'appunto negli attacchi, quelli di quelli grossi, quindi quando siete municipi veramente livelli alti, intanto qua arrivano messaggi a caso, gruppo del clan, reali, una bella salto dopo che magari entrano sti stupidi golem. Ok, una bella salto qui, altri maghetti dietro, abilità della regina, pecca che li voglio far entrare, un'altra gelo tra poco magari, una bella furia la mettiamo qui, così prende tutti, un'archetta la mettiamo qua e la prossima gelo la mettiamo esattamente in questo punto. Quindi già una stella la dovremmo fare sicuro, forse anche due attiviamo l'abilità del re barbaro, e sono già una stella con il municipio, ora dovremmo fare anche la seconda stella se tutto va bene, spero di sì perché sennò sarà già il secondo fail del canale per il ritorno, 49% e già sento forza di fail. Come potete vedere noi abbiamo preso tantissimo dai depositi, perché dovevo attaccare dalla parte in basso a sinistra, ovvero da questa parte, ma come ho già detto, se non ci sono fail sul canale di facco non c'è storia, quindi potremmo anche smettere di attaccare, perché per l'appunto è diventato un fail questo attacco, abbiamo preso, vabbè, l'oro ci serviva, quindi l'abbiamo preso abbastanza. E ora vi andrò a far vedere molto brevemente uno dei due attacchi con più elicier nero, perché queste tattiche, cioè questa tattica di De La Go Weep, spendete sì un po' di nero, ma ne riprendete altamente tanto se trovate l'avversario giusto, quindi se magari Clash vuole farmi andare a far vedere il replay è molto gentile, quanto tanto non mi fido su ogni recupero di un attimo. Vabbè, così a caso mettiamo il replay con più elicier nero che c'ho, ovvero quello da 4060, quindi mi sono preso anche un fottio di oro e di riserva. Era un TH10 abbastanza inattivo, ho messo un arco qui per vedere se arrivava, intanto me la fottevo tutta quanta questa misiera, ho messo un golem qua, così da distrarre le truppe e i maghi che pulivano, ho fatto esattamente la stessa cosa da questa parte mi sembra, infatti qua sotto, per queste due miniere e estrattori, poi ho fatto la stessa cosa da questa parte qua, a quanto pare, da quanto mi ricordo sì, infatti è così, metto il golem, stessa cosa, metto anche un pecco qua sopra, e poi metterò i reali da questa parte, infatti. E come potete vedere mi sono preso un 500.000 di risorse, perché c'era pure il bonus, che era altamente sdroghiggiante, quindi io vi ricordo di lasciare tantissimi like giù qui sotto al video, perché dovete supportare tutte le serie che arriveranno su questo canale, ritorneranno a Rotto Max, ritorneranno tutte le serie, a breve tornerà anche la webcam, spero, spero, perché mi sto veramente scassando le bolse di non evitare i video, e quindi voglio sdroghiggiare anche con la webcam, con le penitenze che torneranno prima o poi, quindi commentate nei commenti quello che volete, serie e tutto quanto, quelle cose nuove, ditemi se volete la serie di magica e noi ci vediamo domani con un prossimo video.